Ciao, io sono Maurizio, 25 anni di esperienza nel mondo corporate e adesso aiuto i professionisti a costruire una carriera in linea con i loro valori e obiettivi, dove tipicamente il punto di partenza è capire quali sono gli obiettivi e i loro valori. Buongiorno Michele, oggi voglio toccare un punto veramente importante che è stato affrontato durante l'ultima live e che ho visto tornare spesso nelle domande relative alla carriera. Mi ricordo che il 25 marzo io faccio un webinar, sono due ore live in cui si discute di quelli che sono i punti fondamentali che io faccio toccare nei miei percorsi relativi alla carriera di consulenza individuale o di gruppo ed è ben strutturato perché si affrontano veramente a 360 gradi tutti i problemi e le opportunità ovviamente relative a una carriera strutturata. E qual è il punto fondamentale? E' proprio prendere il controllo della propria carriera. Però qual è il punto fondamentale di cui voglio parlare oggi? Che dobbiamo fare scelte di carriera per le quali abbiamo la possibilità di determinare, grazie alle possibilità di determinare il pieno controllo della nostra carriera. Allora che succede? Che noi parliamo di andare a fare l'analisi, i nostri obiettivi, cosa vogliamo, l'aria, zona, si fa tutto un lavorone per l'analisi dei pilastri, creiamo una strategia, a volte riusciamo anche a mettere le gomme a terra ed avere un'implementazione di questa strategia. Poi quello che succede di drammatico è che ci sono dei momenti in cui buttiamo tutta l'aria e mi riferisco letteralmente al buttare tutta l'aria quando accade una cosa che è così comune che c'è addirittura un modo di dire, cioè capo problematico, situazione tossica o percepita come tossica, quindi me ne vado. Cerco altro piano B. Gli inglesi hanno diversi modi di scrivere questa cosa, si dice sempre people join companies and leave managers, che vuol dire le persone si uniscono a una azienda, corporate qualunque sia, perché magari mi piace il settore, mi piace quello che fanno, mi piacciono le opportunità, vedo una certa progettualità e poi me ne vado per colpa di individui, no? Quindi mi unisco a un'azienda ma scappo dalla persona, tipicamente il caso problematico, il collega problematico, l'ambiente tossico. C'è anche il people quit managers, questo è proprio ancora più breve. Questa è una cosa pericolosissima e il motivo per cui ne voglio parlare oggi, che come accennavo è una delle domande più frequenti che ricevo. In paio di occasioni mi aveva stupito anche il modo in cui era stata formulata questa domanda, no? Perché una persona nel modulo per le domande sulla carriera aveva detto c'è questa situazione, non sono allineato col capo, quindi me ne vado, vado altrove. Ecco, questa è la cosa, il peggiore errore che si possa fare per la propria carriera, il fare una scelta in base a questo tipo di problematica. Mi spiego. Siamo arrivati in un punto, si spera, con una visione strategica. No, però diciamo lo scenario in cui stiamo seguendo una strategia, abbiamo fatto tutto quel lavoro di preparazione, tutti i passaggi di cui parleremo anche al webinar, però ho fatto veramente tanto per avere la mia strategia, la mia tattica, l'allineamento, lo storytelling, la preparazione degli strumenti e tutto. Quindi nel mio percorso arriva un problema e allora butto tutto quello perché adesso il mio unico obiettivo è allontanarmi da quel problema. Letteralmente, ho usato l'immagine un'altra volta, sto consegnando le chiavi della mia carriera e quindi molto probabilmente della mia intera vita a questo personaggio. Questo è un errore che pagherete caro nel medio-lungo termine, se è un errore, nel senso se fate una scelta soltanto in base a questo, c'è solo da perdere. Ora, partiamo dal presupposto che, sapete, non viviamo, se non ve ne foste accorti, non viviamo nel mondo Disney, per cui casini al lavoro li avrete sempre. Ci sono sicuramente persone, colleghi, capi, problematici. Sicuramente, siccome non penso che in questo canale ci sia il filtro Walt Disney, sicuramente molti di noi sono i colleghi problematici per altri colleghi, quindi dobbiamo affrontare questo come uno dei punti chiave della carriera. Cioè, è un momento che si ripresenterà anche spesso, perché non è che nei 25 anni di carriera non ho avuto ogni tre anni un problema, però ricordatevi che quella è una situazione contingente. Cioè, io dico sempre, noi abbiamo tante scatole, compartimenti che rappresentano i progetti, le divisioni, le cose, i team, le persone, le cose su cui lavoriamo, personale e lavorativo. Quello che succede in questi casi è che abbiamo la scatola di questa persona, noi per X motivi, per la parte emotiva, per la parte caratteriale, per la parte, mettiamo la testa in questa scatola e allora ovunque mi giro io vedo solo questo problema, vedo soltanto questa persona e tutto il mio mondo diventa la relazione non positiva con questa persona. E quindi ovviamente che faccio? Voglio uscire da questa situazione di sofferenza, la cosa più facile, basta me ne vado, sbatto la porta e quando vado via farò denunce qua, là, poi non si fa niente perché poi hai una vita da continuare a vivere e questo è veramente un errore gravissimo se non è una scelta con un certo tipo di progettualità. Cioè lì è dove vi dovete fermare e prendere in mano la vostra strategia, far rigirare la macchinetta che abbiamo fatto girare con il protocollo carriera o comunque con l'approccio del analizzare i pilastri e terminare obiettivi, strategia, storytelling e via dicendo, aggiungere questa variabile e capire cosa fare, perché? E la persona? Perché questa persona è problematica? Non partiamo dal presupposto che noi siamo giusti e questa persona è sbagliata, eh? Conoscete la storiella del... quello e attenzione c'è un pazzo che va contro mano e sulla statale e quello uno, qua sono duecento, no? Perché magari siamo noi quelli contro mano e quindi dobbiamo iniziare per prima cosa a cambiare completamente prospettiva, cioè davanti a una situazione... attenzione, io non dico davanti a una persona problematica, davanti a una relazione problematica dobbiamo fare gli adulti, cioè fermi tutti che succede. Non partiamo dal presupposto che noi siamo giusti, i puri, quelli che, come mi sono sentito dire, vivono nella via della rettitudine, però non so a che numero civico, probabilmente, ma iniziamo a dire, ok, questa relazione non sta funzionando. Perché? Perché alla fine sono relazioni lavorative, eh? Qua si parla di carriera sulle altre cose andate in altri canali. Quindi questa relazione lavorativa non sta funzionando. Perché? C'è un disallineamento di valori, una poca trasparenza, antipatie personali, ho fatto qualcosa, è successo qualcosa che ha compromesso questa relazione. Mi devo mettere in discussione e ci devo lavorare. Perché ragazzi siamo sul posto di lavoro e non funziona tutto alla Barbie, Playmobil e cose del genere. Cioè il mondo reale ha tutta una serie di implicazioni e di difficoltà che dobbiamo imparare a gestire, anche perché non posso passare la vita a scappare dalla situazione difficile ogni volta che si presenti, altrimenti vi assicuro che passerete la vita a fare colloqui. Quindi quello su cui dobbiamo lavorare è capire, appunto, prima la relazione, se è con l'individuo, situazione veramente specifica, situazione... Puoi capire, no? Allargare pian piano il cerchio della nostra analisi. Ma è l'individuo o è il team? Ovvio premesso, cioè tutto amplificato per cento quando l'individuo è il capo, no? Quello ci complica la vita non di poco, ma dobbiamo gestire questa cosa. Quindi è l'individuo o il team? Può essere il capo oppure un team che per vari motivi ha delle dinamiche tossiche e allora piano B, lascio il team, mi sposto, faccio uno skip level, quindi vado a parlare col capo del mio capo, non maestro vedi a quello che mi fa questo, ma da professionisti, quindi con tutta una logica di narrativa, capire data collection e via dicendo. Ricordatevi sempre evitare i conflitti in azienda, non se ne esce mai vincitori. Oppure a più ampio spettro è proprio l'azienda che ha delle dinamiche tossiche e solo in quel caso devo pianificare l'andarme, sono finito nell'azienda sbagliata. Ovvio, più grande è l'azienda, più ho la possibilità di spostarmi altrove, in un altro team, in un altro ruolo, in un'altra divisione che mi aiuta ad allontanarmi da determinate dinamiche non positive per me e per la mia carriera. Però bisogna stare veramente attenti perché questo è il cuore del controllo della propria carriera. Cioè immaginate avete fatto tutta l'analisi dei pilastri, avete fatto tutta la preparazione, identificato l'identità professionale, avete fatto la vostra strategia, la tattica, gli strumenti, lo storytelling, siete arrivati dove siete arrivati e poi evento, pum, deviate completamente e dovete ricostruire con un gap infinito da colmare ed è veramente una cosa non gestibile. Non gestibile perché se non imparate a gestirla, siccome ricapiterà, spoiler, il mondo del lavoro non è per niente facile. Che faccio ogni tre anni? Butto la spugna e mi sposto? No. Bisogna capire un attimo. Invece, ripeto, se è proprio l'azienda tossica e allora no. Cioè rimanere in quell'azienda per me è deleterio perché mi rovinerà a livello di reputazione, di mindset, di modus operandi e via dicendo. Ok? Quindi veramente attenzione a non farvi guidare dalle emozioni, dalla situazione contingente e non lasciare il controllo della carriera a una situazione di questo tipo. In un attimo le domande. Ciao Salvatore, ciao Andrew Gray Jedi. Allora, Salvatore dice una richiesta off topic alla live di oggi. Potresti pubblicare un video dedicato a come comportarsi e difendersi dopo le dimissioni nel preavviso? E un video su come comportarsi nel primo mese della nuova azienda? Ripicche. Allora, questo è interessante perché Andrew dice cosa intendi per difendersi dopo le dimissioni? Ripicche, crocifisso in salamenza, venir visto come un traditore, scadenze improvvisamente urgenti e via dicendo. Ok. Allora, dimissioni. Abbiamo fatto una scelta, abbiamo deciso di lasciare l'azienda, si spera per il giusto motivo, che succede in quel limbo. Ok? Parlo di limbo perché ci sono vari mesi, a seconda del contratto, a seconda di, in cui dovremmo continuare a lavorare in un'azienda sapendo di non esserne più parte. Ora, questo varia come comportamento da azienda a azienda, ma non deve variare lato vostro. Voi siete dei professionisti. Punto. E vi comportate da tali. ok? Tecnicamente, fino al minuto dell'ultimo giorno, le performance non devono scemare. Non è che quei tre mesi di preavviso tiro i remi in barca e vado in garden leave autonomamente. Ovvio, scelificamente, è che se una persona sta andando via, cambiano le dinamiche. Cioè, se io so che tu stai andando via, non vieni coinvolto in progetti segreti, in cose di un piano quinquennale, tipicamente il carico di lavoro diminuisce perché, appunto, hai già un piede fuori e poi non si sa neanche dove vai e tutto. Per cui, in azienda non c'è assolutamente una logica nel non considerare questo. Poi, l'azienda non esiste. Esistono le persone che lavorano per un'azienda. Il punto fondamentale è che, come professionisti, dovete assicurarvi di uscire a testa alta da un'azienda. Quindi, lavorare, fare tutto quello che deve essere fatto e via dicendo. Poi, anche lì, più grande l'azienda, più normale il turnover e più le cose vengono gestite in maniera standard. Alcune aziende sono strutturate bene, hanno là, c'è l'endover, se c'è una persona che prenderà il tuo posto oppure le tue attività vengono trasferite a qualcun altro, cose più o meno formali, feedback, come si è trovato in questi anni e varie cose. Più diventano piccole aziende, meno questa cosa è ovviamente strutturata, ma ci sta. Però il punto è, in questo periodo, tecnicamente, voi siete nella situazione più forte. Cioè, fatto salvo che non dovete fare cavolate, perché fino all'ultimo giorno siete all'interno di un contratto lavorativo, quindi non dovete, se non c'è una buona relazione, non dovete mai dare il fianco a, no? Errori, sviste, documenti, segretezza e tutto. State molto molto attenti, perché si tende ad abbassare la soglia di attenzione e quindi potreste più facilmente inciampare in degli errori e delle sciocchezze. Però, tecnicamente, quello che spesso succede è che quasi ti vengono a chiedere se per favore puoi fare quella presentazione, puoi gestire quella riunione, proprio perché che succede, no? Cioè, sono già con un piede fuori. Questa parte dovete considerarla. Il discorso del difendersi, da che tipo di attacchi? Cioè, qualcuno ti vede come un traditore dice più su quella persona che su te. Se tu stai facendo una scelta di carriera e sei sereno rispetto alla tua decisione, al tuo percorso, non c'è nessun problema, no? Non è che ogni fesso che passa io devo mettere in discussione i miei valori, la mia percezione, la mia professionalità o altro. Io ho un mio percorso, sto facendo, ho fatto determinate scelte e va bene così, procedo. crocifisso in sala mensa, non so cosa intendi. Scadenze improvvisamente urgenti, quello è il tuo lavoro. Tu fino all'ultimo giorno sei un dipendente di quell'azienda, quindi fino all'ultimo giorno devi fare tutto quello che va fatto. Sì, probabilmente ci sono determinate cose che vanno chiuse, anche tu, no? Da professionista non te ne vai lasciando le cose aperte. In quel periodo cerchi il più possibile di chiudere tutti quanto i cicli, di fare, completare tutti i documenti, assicurarti che le informazioni siano rintracciabili, preparare dei bei pacchetti di documenti per fare l'endover alla nuova persona o al tuo capo, dicendo guarda che questo è tutto quello, le informazioni stanno qui perché una volta che sei uscito, sei uscito punto. Però il discorso degli attacchi di cui tu parli torna nel discorso proprio delle relazioni individuali, quelli fanno parte del gioco da gestirsi, ma anche lì, cioè tu hai un contratto firmato con una tenda, si riduce il numero di giorni in cui devi stare lì, ma se qualcuno viene e ti fa un pippone su qualcosa, cioè buon per te se riesci a non ridere, no? Perché qual è il problema? E lì, in maniera professionale, se uno viene e ti dici tu fino adesso avevi un carico di lavoro 10 e questi dicono negli ultimi due mesi devi fare 30, tu dici signore il mio carico di lavoro è 10, per fare queste cose ditemi a quali altre devo rinunciare, non è che diventi il il cestino di tutte le cose da fare perché stia andando via e quindi devi essere usato come carne da cannone per le ultime settimane e mesi. Ripeto, il coltello da parte del manico, fatto salvo la professionalità, la compliance e tutto quanto, ce l'hai tu. Poi, ti ripeto, se poi sei interista e ti metto nel cappellino del Milan l'accanto per farti rodere, un problema tuo se ti metti a rosicare per cose di questo genere, cioè proprio staccati, togli l'ego e pensa al tuo percorso e via dicendo. Perché? Perché se no sei in quello di cui parlavamo prima, c'è la scatola e tu stai mettendo la testa in quella scatola invece di pensare al fatto che si sta chiudendo una fase, stai facendo un'esperienza di cambio e quindi un'opportunità di imparare come si fa l'endover, come si chiude tutto quanto, invece di andare a salutare i colleghi, stai pensando ai dispettucci e tutto. Ma sei tu che stai mettendo la scatola, la testa in quella scatola e vedi soltanto questo. Pensa a tutto quanto il resto. Ok? Quando si parla di carriera, un'altra domanda che mi viene spesso fatta in diversi modi è come capire quale sia la propria strada, su quali basi scegliere e come procedere. Anche lì la carriera deve essere strutturata al più presto possibile. Io ho 25 anni di esperienza nel mondo corporate, vi assicuro che i primi 12 anni sono andato letteralmente all'arembaggio, non avevo nessuna pianificazione e progettualità. Conoscevo persone che uscite dall'università avevano benissimo idea, devo fare questo, questo, questa, a tot periodo devo fare questo, questa svolta, li vedevo come degli alieni, ma perché? Semplicemente perché mi mancava tutta una fetta di know-how e non avevo la minima idea che esistesse un concetto di pianificazione di carriera. Cioè la prima volta, per me, è stato letteralmente quando ho comprato questo libro a Copenhagen, ma come esiste il career crossroad, esiste la pianificazione, esistono le scelte? Boh! Quello è il libro di Adrian Cho, che è un career strategist che copre il mercato di Singapore, quindi se vuoi andare a lavorare a Singapore o in quella zona, Adrian Cho è la persona a cui dovete fare riferimento. Però, dicevo, prima si capisce che c'è una metodologia per pianificare la propria carriera, meglio è, ed è esattamente quello di cui parlo. E vi ricordo, mercoledì 25 al webinar parleremo esattamente di questo, cioè saranno due ore in cui approfondiremo tutti i passaggi del come si pianifica un percorso di carriera, ma soprattutto anche del come sia giusta. Ci sono tre blocchi su cui vi dovete concentrare. Uno è il pianificare, posizionarsi, prendere una decisione. Il secondo è, ok, rispetto a quello come sto messo oggi, no? Sto lavorando di 5, 7, 10 anni, sono in linea lì o c'è qualcosa che devo aggiustare? Sistemato questo, no, ogni blocco fa partire dalle nuove domande a cui dobbiamo rispondere, che fanno partire altre domande. Una volta sistemato questo, what's next? Su che cosa devo concentrarmi per sviluppare competenze e skill che mi aiuteranno nel medio-lungo termine e quindi le soft skill, la visione di business e via dicendo. Dove partire? Quando parliamo di come trovare la propria strada, dovete partire, il più possibile studiare. Si può ripartire anche con vari anni di seniority. Questo non vale soltanto per chi deve cercare la prima posizione. Io posso anche avere 5-10 anni di seniority, mi trovo davanti a un career crossroad che è l'avere davanti varie opzioni e non sapere come valutarle e quindi quale scegliere. E quindi a quel punto che cosa faccio? Devo avere un metodo. La cosa fondamentale dell'avere un metodo è che devo avere un metodo, ed è quello su cui io mi concentro nei percorsi gruppo e nelle consulenze individuali, è avere un metodo che sia change-proof. Cioè io non devo avere un approccio che vale oggi per quella che è la situazione, ma io devo avere un metodo che oggi mi dà determinati risultati. Tra 5 anni, quando la mia vita sarà andata chissà dove, faccio rigirare la macchinetta, i nuovi risultati li utilizzo come traccia per le decisioni future. Soprattutto all'inizio non sappiamo quello che non sappiamo, quindi uno dei punti fondamentali è studiate il mercato, studiate le aziende, studiate i ruoli. Spesso e volentieri noi non abbiamo la minima idea di quali siano le opportunità lavorative attorno a noi, perché o abbiamo vissuto in una realtà e abbiamo scelto, sempre la responsabilità è sempre nostra, e abbiamo scelto di avere una visione un po' ristretta a quelle che erano i miei task, non avevamo mai tirato fuori la testa dal nostro cubicolo più o meno fisico o come concetto. oppure sono all'inizio e quindi veramente non so cosa ci sia disponibile, dovete studiare, dovete lavorare tanto sul capire qual è il mercato, quali sono le opportunità, studiare le aziende, studiare le informazioni, passare tantissimo tempo su LinkedIn, e quello vi aiuterà tantissimo a acquisire know-how, competenze e un mindset per aggiustare questa parte, no? Perché? Per consolidare anzi questa parte, perché quella sarà la base per tutte le scelte future. Io, per fare una scelta, devo avere più opzioni. Per avere più opzioni, devo avere informazioni su ognuna di queste opzioni, e le informazioni devo andare ad acchiapparle in giro. Posso essere più o meno fortunato perché magari ho vissuto in un contesto di un certo tipo, io vengo da una famiglia di professori insegnanti, zero esperienza nel mondo privato, nessuno nella mia famiglia ha potuto dirmi a, relativamente al mondo corporate, alle aziende, all'estero e tutto, tutta roba che ho dovuto acquisire nel tempo, con una lentezza devastante, proprio perché inizialmente non avevo nessun metodo su come procedere. Per cui, per quella parte, io consiglio di lavorare molto sulla preparazione, sull'acquisizione dati, e soprattutto sul capire quali sono le attitudini a livello lavorativo, come si lavora al meglio. Non lasciate stare le... Trova un lavoro che ti piace e non lavorerai un giorno della tua vita. Quelle sono balle totali, ok? Si lavora. Il lavoro, ripeto, non è facile, non è fair, non ci danno soldi a fine mese per divertirci, per quanto possano metterci i biliardini e gli scivoli negli uffici, ci dobbiamo fare un mazzo così, per cui approcciate in maniera seria questa tipologia di analisi e di ricerca per raccogliere la maggior parte di informazioni possibili e poi anche esplorare, contattare, fare network, parlare con le persone il più possibile, acquisire informazioni per questa tipologia di percorso. Andrew dice, Quali sono i red flag da non ignorare per intervenire prima di arrivare al punto da chiedersi se è meglio dimettersi? Noi abbiamo sempre a che fare con persone. Sempre. Business, lavoro, attività imprenditoriale, alla fine tutto si riduce alle persone. Ok? E su quello dovete fare attenzione. Cioè, l'ambiente, ora parliamo di red flag nel senso di campanelli di allarme che qualcosa possa andare nella direzione, perché magari ha una relazione tossica o conflittuale, non è che sono arrivato in un giorno, o ho fatto proprio un errore pauroso quando ho iniziato, oppure magari, perché succede anche questo, io entro in un team e c'ho tutti contro, perché quel ruolo tutti si aspettavano che venisse a qualcun altro, oppure culturalmente, oppure geograficamente sono percepito come l'elemento esterno, capitano anche queste cose, anche a me è capitato, e quindi devi gestire il fatto che parti con l'handicap su questa situazione. Again, siamo adulti e vaccinati, siamo professionisti, queste cose succedono, life is unfair, sì, benvenuti, funziona così, devo imparare a gestirle. Le cose su cui bisogna fare attenzione, come red flag, sono sempre relative alle persone, ma soprattutto relativi ai miei valori. Cioè, se io ho 25 anni, mi piace il mondo competitivo, perché credo che bisogna andare a sgomitare tutto, non c'è una carriera giusta, una carriera sbagliata, valori giusti, valori sbagliati, lavorativamente, poi in generale alcuni sì. Per cui devo trovare qualcosa che è in linea con me. Cioè, se a me alimenta tantissimo l'idea che sono in un team dove devo sempre performare, perché voglio sempre essere al top, e tutti il 10%, low performer, vengono fatti fuori, questa va, ok, c'è altra gente che lì vengono i capelli dritti e se ne va via dopo due mesi. Quindi non sono red flag in assoluto, ma sono red flag rispetto ai miei valori e al mio modo di lavorare. Le cose su cui, a mio avviso, non si deve assolutamente transigere, ma sia a livello di reazione, sia a livello di priorità personali, sono le cose, come dicevo, relative ai rapporti tra persone. Cioè, se io sono in un'azienda in cui ci si aggredisce, ci si offende e c'è un un modo di porgersi estremamente offensivo e aggressivo, quello per me è inaccettabile. Cioè, io quando parlo con persone e mi dicono ah, perché da noi nelle riunioni quello grida, quello offende, cioè, io ho sempre lavorato in aziende dove si alzavi la voce che il giorno dopo eri fuori dall'azienda, cioè io non ho mai visto, no, quasi, quasi mai, diciamo che quasi mai visto gente che sbrocca in, in riunioni e tutto, eh, cioè, ci sono aziende dove determinate frasi sono una porta verso l'exit ma immediata, aziende dove ci sono molestie di ogni genere, dove ci sono harassment di ogni genere, tutto, quelli sono incompatibili con i miei valori, no? Ma anche lì è l'azienda, è il team, è la divisione, magari da un'altra parte funziona tutto, era semplicemente lì, questo è quello su cui devo lavorare, per cui per me i red flag sono letteralmente sul, sulle relazioni e sui comportamenti delle persone, cioè, non, al lavoro non è una committiva di amici, al lavoro non dobbiamo avere amici, non è un fatto di, ah, queste devono essere persone con cui vado a fare la birra, ci sta, bene se c'è, ma è lavoro, ragazzi, è lavoro, non è il club bowling, non è la palestra, è lavoro, le persone sono unite da un obiettivo nobile che è portare avanti un business e farsi pagare per portarlo avanti e all'interno di questo frame operativo devo trovare cose che per me sono accettabili o meno, se sono in un posto dove so che ci si ammazza vicenda, ci si fa le scarpe, quello ruba quello, quello ruba quell'altro, se non è una metodologia che mi appartiene, naturalmente scivolerò fuori da questa realtà lavorativa, dove il fuori può significare in un altro team, un'altra divisione, un'altra area o un'altra azienda, se tutta l'azienda è così, via, non mi ci devo adeguare, ok? E meno che mai devo stare in un'azienda così per vent'anni facendo il puro, ah ma che brutto, che brutto, però intanto resto qui, mi faccio qui, vuol dire che tecnicamente queste cose mi vanno bene. Domenico chiede, ti piace il tuo lavoro? Sai che puoi ancora imparare tantissimo in quel ruolo perché è un incrocio tra un ruolo gestionale e tecnico. Il capo ti tratta bene e ti dà le giuste responsabilità. Ti pagano? Sei felice dal punto di vista lavorativo? Come capisci se conviene cambiare oppure no? Sono giovane e ho 30 anni. Conviene continuare a sforzarsi di essersi in un posto con una vita non lavorativa non bella o conviene cambiare? Allora, occhio, si mischiano due cose, eh? Tu mi stai dicendo, correggimi se sbaglio, lavorativamente funziona tutto, al di fuori della parte lavorativa ci sono problematiche. Si, ho capito bene. Lavorativamente mi pagano bene, honeymoon, tutto funziona, sei 30, hai 30 anni, perfetto, giovanissimo. Conviene sforzarsi di essere in un posto con una vita non lavorativa non bella o conviene cambiare? Cioè, del tipo, provo a riformurarla, sono nell'azienda dei miei sogni ma l'azienda dei miei sogni è sul cucuzzo della montagna in mezzo al nulla. Se questo è lo scenario di cui stiamo parlando, back to step one, i pilastri. Cioè, perché io dico sempre quando si parla di carriera dovete veramente partire dalle fondamenta e le fondamenta per un bel po' di tempo non hanno la parola di carriera all'interno? Perché ci si può trovare esattamente in una situazione come questa oppure opposta. Può andar bene, dipende da noi. cioè, premesso, spoiler, non disclaimer, anzi, non dovete preoccuparvi della carriera degli altri o delle scelte. Non è che siccome tutti su YouTube fanno i video che io vado, faccio questo, faccio ste scelte, allora c'è gente che mi dice mori mi sento uno sfigato perché sto al lavoro, funziona tutto bene, ma non è che devo cambiare. No, non devi. A meno che non ci siano determinate scelte. No, magari devi cambiare nel senso che devi migliorare il tuo modo di lavorare, devi avere una progettualità diversa all'interno dell'azienda, devi sviluppare determinate soft skill, devi sfruttare meglio le opportunità interne, ma non è che devi cambiare perché così su YouTube fai vedere che ogni tot anni hai cambiato e se non hai otto job title diversi sei uno sfigato. Questo. Però c'è un punto fondamentale, i pilastri. Cioè di questo ne parleremo di nuovo nel webinar, iscrivetevi al link, tutto parte da lì. Io individuo quattro pilastri chiarissimi. Il pilastro personale, il pilastro familiare che è separato, il pilastro finanziario e il pilastro professionale. In un caso come questo, nel pilastro personale io parlo di me, io che voglio, io Maurizio, io la mattina quando mi faccio la barba cosa voglio, quali sono i miei valori, le mie priorità, che cosa veramente, non il cosa ti fa scendere dal letto e la mattina, più terra terra. Quello che veramente per me è soddisfacente come individuo. Poi familiare che è diverso è un'altra conversazione con la mia compagna, il compagno, moglie, marito, i figli, i genitori e tutto, perché là probabilmente ci sono priorità, obiettivi e aspettative diverse. Posso anche essere single, ma magari avere genitori anziani che si aspettano che io non sia lontano e tutto quanto. Poi c'è la parte finanziaria, non si lavora per la gloria, se non me lo avete mai sentito dire vuol dire che non seguite i miei video, perché lo ripeto sempre, e là dovete avere chiarissimi i vostri numeri, i vostri obiettivi e il vostro trend. E poi c'è la parte professionale, cioè a livello professionale io che voglio, voglio crescere, no, ripeto, non è una risposta in assoluto per la mia vita, in questa fetta di questi cinque anni, che voglio, voglio crescere, voglio formarmi, voglio mettermi alla prova, voglio sviluppare nuove competenze, c'ho l'energia di fare ABC, questo sta a voi. Quando mettete tutte queste cose insieme, più tutto un lavoro di analisi, competenze, storytelling e tutto, create la vostra strategia, la tattica e tutto. Ma perché questi pilastri rispondono alla tua domanda? Perché dipende dalla tua priorità, cioè se lavoreresti in un'azienda in mezzo al nulla, in una deserta dove il primo bar è a 100 km di distanza, probabilmente no. Ok, e se tu fossi un appassionato di automotive e quell'azienda si chiamasse Ferrari? Probabilmente sì. Ok, e se fossi in un settore e quell'azienda per fare sta cosa ti pagasse 15.000 euro al mese, lo faresti? Probabilmente sì, no? Cioè, a seconda di cosa mi sta dando in quale pilastro questa situazione e a seconda di cosa voglio io rispetto ai pilastri, la risposta è sì o no. Cioè, se io voglio fare un mare di soldi, probabilmente da neolaureato me ne vado in una piattaforma petrolifera, mi danno soldi che nessun altro vede in determinate condizioni sotto il mercato è anche cambiato o faccio sempre esempio vado a fare il saldatore subacqueo e mi danno i soldi con la pala, ovvio che sto sacrificando per il pilastro finanziario, magari il pilastro qualità della vita o familiare e tutto, ma in quel momento faccio questo, no? Cioè, militare in missione di guerra probabilmente lato familiare o personale sta mettendo molto in discussione sacrificando molto chi è in business development e passa io conosco persone che la loro settimana lavorativa era domenica pomeriggio si prende l'aereo si torna il venerdì sera o il sabato mattina baci a bracci domenica pomeriggio di nuovo in aereo per anni, no? in un pilastro ti dà tantissimo magari quello professionale e personale in altri pilastri stai sacrificando magari ti danno tanti soldi ma non vedi non c'è una risposta univocamente giusta c'è la tua risposta rispetto in quel momento cosa per te è importante qual è la priorità e che cosa vuoi ottenere per cui lavorativamente mi sembra che a livello pilastro sei felice a livello finanziario anche lo sei tu degli altri due pilastri ovvio che a un certo punto io avevo una posizione lavorativa bella il lavoro era interessante l'ambiente pure stipendi ok mi era preso il trip che io dovevo andare in Inghilterra cioè per me pilastro personale era diventato il più rilevante ho mollato un lavoro praticamente sicuro una bella posizione anche di prestigio e tutto ho preso la mia bella motocicletta ornella una Honda Hornet S 600 e senza nulla me ne sono andato a Londra mi sono fatto spedire le mie cose a Londra e io sono andato in motocicletta per gli appassionati ho fatto Civitavecchia Barcellona con il traghetto e poi Barcellona Londra in moto una cosa fighissima bellissima soprattutto una storia da raccontare per i decenni successivi come vedete però in quel momento per me quello era fondamentale finanziariamente un disastro non avevo risparmi ho dovuto chiedere un prestito con la scusa che dovevo fare dei lavori e delle cose e ho investito in quello perché per me cioè stavo in un lavoro che mi dava tante soddisfazioni ma mi bruciava perché il pilastro personale era assolutamente prioritario per me quella sfida il voler andare all'estero oggi ho delle dei parametri completamente diversi no? cioè quando a un certo punto ho deciso di tornare all'estero ho scelto anche in base alla parte familiare e alla parte finanziaria oggi per me la parte familiare è la prioritaria perché tutto ruota attorno a mia figlia dipende dal momento della tua vita l'unica cosa non fare assolutamente scelte dettate dal ci si aspetta che tu ogni tot cambi lavoro se no sei uno sfigato ma ma per niente tu hai la tua come quando vai in moto tu fai la tua gara segui la tua traiettoria mica diventi a vedere che fanno gli altri no? questo è fondamentale fare questa tipologia di analisi in maniera tale che hai la coniezione porca miseria questa scelta lavorativa è in linea con la mia strategia che ripeto cambia periodicamente fate rigirare la macchinetta ma è quello per cui se tu in questo momento sei in una situazione in cui questa parte che ti gratifica è più importante della parte dove soffri un po' ma anche lì cioè non è che è il lavoro che impatta la tua parte personale probabilmente cioè a meno che di nuovo l'esempio dell'aziendina in 200 km da ogni altro essere vivente ok pensate a quelli che si fanno strapagare per vivere in un compound in Medio Oriente durante i periodi di ramp up di certi impianti e tutto vita schifosa però pilastro personale finanziario vai alle stelle no però nel tuo caso per esempio io direi hai analizzato bene la parte personale perché la vita non lavorativa non è bella cambiare lavoro aggiusterebbe quella parte cioè perché il lavoro ha un qualcosa che ti implica che non puoi avere una bella probabilmente non c'è un collegamento diretto ma è più un fatto di o un disagio e questo disagio travasa dal pilastro personale o familiare a quello professionale lì c'è un bel lavoro di analisi da fare analisi nel senso di analisi dei pilastri e tutto quanto però ti assicuro Domenico che è una condizione estremamente diffusa quella di avere un disagio cioè così come sono stressato al lavoro e mando in vacca le relazioni con gli amici o la famiglia perché mi porto il lavoro a casa come si dice quando uno stacchi e me è tutto così abbiamo una situazione familiare o personale che va a impattare o inficiare le scelte lavorative su questo bisogna lavorare ma soprattutto bisogna avere una struttura e un buon quadro d'insieme un po' come quando parlavamo della scelta del lasciare l'azienda perché ho un problema con il manager ok ma gli altri pilastri come stavamo magari si risolve e si lavora su quello si fa un po' di damage control o risk mitigation e faccio azioni successive spero di aver risposto alla tua domanda Domenico quindi la risposta in breve classico odiosissimo dipende perfetto se ci sono anche altre domande se no prendo una dal ok se avete domande mettetele in chat così ecco aspetta ne vedo una appena arrivata ciao Gabriele Gabriele ti dice mi chiede ti faccio una domanda successiva alle dimissioni come ti comporti quando ti candidi a una posizione su LinkedIn sapendo che difficilmente rispetterai tutti i requisiti dell'offerta lo chiedo perché ho sempre l'ansia del colloquio tecnico allora candidarsi ovviamente siamo in fase di active job hunting no quindi con più o meno pressione sto cercando una nuova posizione e quindi mi arrivano queste belle candidature c'è queste belle posizioni queste open position io c'ho i miei strumenti il match non è 100% spoiler non lo sarà mai io ho selezionato probabilmente qualche centinaio di curriculum io non sono quelli che io ho fatto 200.000 curriculum ho fatto tantissime selezioni in vari ruoli come hiring manager o anche come parte del panel interview ragazzi il candidato che c'ha il 100% match con la job description non esiste cioè se ne trovi uno al 70-80% è letteralmente grasso che cola poi devi vedere se è vero perché partiamo dal presupposto che tutti quanti dicono la verità nel curriculum però poi bisogna capire anche la percezione perché magari io penso di essere batman in queste competenze e poi vai a confrontarti e dice vabbè magari anche meno allora che succede che quando ti candidi per una posizione questa posizione come primo consiglio deve far parte deve essere allineata con tutto quello di cui abbiamo parlato prima cioè la tua strategia di carriera perché ti stai candidato per quella posizione che logica ha nel tuo percorso poi sulla parte tecnica lì tipicamente non dico che sia binaria ma tu sai se hai le competenze a quel livello o meno ma anche lì magari sparano sparano un po' più alto come aspettative però quelli chiedono una seniority di cinque anni su una competenza tu ne hai tre ma in quei tre hai sviluppato la stessa definizione che loro hanno per quella seniority se invece ci sono vere fette di competenze che ti mancano lì è un problema barra sfida opportunità cioè sta a te capire se è un qualcosa di colmabile e sta a loro capire se è un qualcosa di anche colmabile lato loro mi spiego se arrivate a un colloquio a meno che non abbiate scritto di ozie sul curriculum e chi segue questo canale non scrive di ozie sul curriculum anche loro sanno che tu hai quel gap perché di nuovo tu sei uno di quelli nella fascia 60 70 80 per cento di match e poi sta a loro capire se quel gap è qualcosa su cui investire o meno cioè la persona iper schillata ma assolutamente problematica sotto altri aspetti nelle aziende sane non viene selezionata perché il super qualificato incapace di gestire lavorare in team o tutto è un problema cioè è molto meglio prendere una persona con la giusta attitude no? cioè con il giusto approccio con il giusto messo con le giuste skill in altri settori ed eventualmente coprire quel delta anche perché tipicamente non è che io faccio copia e incolla e come lavoravo prima lavoro qui con gli stessi strumenti e stesse cose a meno che non sia parte di una catena di montaggio per un'azienda è molto più facile investire in una persona che ha altre competenze e altre qualità rispetto a quello che magari sa perfettamente quel tecnicismo ma poi è ingestibile a livello di personalità comunicazione e tutto quanto poi il solito discorso se ti hanno chiamato al colloquio e tu ti devi giocare cioè significa che per loro c'è benissimo una chance poi è chiaro che hai l'ansia da colloquio ma ci mancherebbe altro cioè di nuovo siamo nel mondo reale ragazzi quelli che vai al colloquio fai così calma dovete mettere in conto che al colloquio vi viene il mal di pancia il cagotto lo stress vi impappinate non vi ricordate le cose il classico uscire dal colloquio con porca miseria avrei dovuto rispondere così a quella domanda questo è quello su cui si lavora con tutta la preparazione e tutta la chiarezza che si fa prima durante il periodo di preparazione della propria carriera e nello specifico al colloquio no? poi sulla parte tecnica te la devi giocare sulla parte tecnica devi far capire cosa sai fare e anche qual è il tuo potenziale perché magari determinate skill ci sono determinate competenze non e magari quella competenza anche nel che tu ti racconti per quello dico sempre fondamentale lo storytelling nel come presenti le tue competenze tu fai capire quanto sei un professionista su cui si può investire e questo sta veramente a te nella fase di preparazione per cui non ti preoccupare del non avere il match al cento per cento perché non ce l'ha nessuno preoccupati di andare al colloquio dove tutto quello che puoi ottimizzare è ottimizzato dove tutto quello che puoi fare studiare l'azienda prepararti avere lo storytelling aver risposto a tutte le domande standard aver preparato la costellazione di risposte tutto quello di cui parlo e parlerò anche ricordatevi nel webinar e tutto è fatto e poi l'altro consiglio tecnico non partite mai dai colloqui della vostra vita cioè se sono i primi colloqui o se da tempo che non fate colloqui magari fate qualche colloqui in aziende non perfettamente in target anche per abituarvi per rigestire quel mal di pancia per rigestire quell'impappinamento per rigestire il sentirvi a voce alta parlare della vostra carriera magari in inglese e via decendo però appunto sulla parte tecnica ovviamente lavoro il più possibile ma soprattutto se ci sono gap devi gestirli con un questo no ma in questa traiettoria si sviluppa così eccola ok ciao nome e cognome come Mario Rossi sono consulente in Lamborghini chapeau e avevo un rapporto complicato con il mio responsabile interno mi sentivo sempre sotto stress e non mi sentivo apprezzato della serie se il task si conclude bene era stato bravo il mio responsabile se il task andava male era colpa mia vabbè questo è il day by day di ogni genitore marito o moglie no mio figlio ha preso 8 suo figlio ha preso la nota quindi test test ingegnie effetto la svolta è stata chiedere alla mia azienda di consulenza di cambiare team cambiando ruolo e ora mi trovo davvero bene con il mio capo nonostante il ruolo di prima mi piacesse di più esatto questo è esattamente quello di cui parlavamo prima non so se hai seguito dall'inizio la live dice poi la prossima volta che ricapiterà cosa sarebbe meglio fare era il mio primo lavoro e l'ha presi sul personale cosa consigli per la prossima volta guarda nome ne abbiamo parlato nella prima parte della live la live inizia proprio su questo argomento esattamente questo non è personale è business e bisogna gestirlo e tu hai detto una gran verità la prossima volta che capiterà perché ricapiterà perché questo è il mondo reale ok non siamo nel mondo Disney non siamo nei telefilm americani succede troverete periodicamente delle cose e a te è successo quello di cui avevamo parlato prima cioè più è grande l'azienda più hai spazi di manovra ovvio che se sono in un'azienda di 15 persone e nel mio team di 5 c'è un problema spoiler probabilmente non hai grandissimi spazi di manovra perché è praticamente a conduzione familiare ok in una grande azienda io posso spostarmi posso chiedere di muovermi a destra o a sinistra e fa parte anche del mio percorso di crescita non butto sapete c'è il modo anglosassone di dire non buttare il bambino insieme all'acqua sporca cioè non sacrificate tutto per questa situazione specifica rivediti quando ora ricaricherò a breve la registrazione di questa di questa live ma parlavamo esattamente di questo all'inizio cioè non dare a quella persona le chiavi della tua carriera se tu avessi deciso di uscire e perdere un brand fondamentale come ho lavorato in Lamborghini anche se da esterno che immagino ti aiuterà nella tua spendibilità per le prossime scelte di carriera se tu avessi fatto una scelta tipo siccome quel capo lui o lei è problematico allora me ne vado sì e poi quando te ne sei andato dopo tot tempo dirai porca miseria sti cinque anni potevo passarmi di lì invece che dalla pizza e fichi srl dove il capo non era così problematico cioè deve sempre far parte della strategia e non consegnare le chiavi della tua carriera e quindi del tuo futuro alla persona problematica di turno perché sennò vi dovreste fare decine di copie perché ne incontrerete tantissimi negli anni questa immagine mi piace sì guarda butto un occhio ricaricherò datemi il tempo di fare un minimo di editing e e metterlo là quali sono gli step per diventare interno quanto è importante la politica allora politica office politics ovviamente allora qui siamo nella situazione tu sei in un'azienda estremamente prestigiosa tu sei un esterno contingent labor o come viene chiamata all'interno della della tua azienda e il tuo obiettivo è entrare ok diventare un interno ci sono moltissime aziende che hanno gran parte della forza lavoro strutturata così e chiaramente se tu sei in quel settore perché ti appassiona l'automotive quindi sei assolutamente nella tua azienda sogno perché Lamborghini è Lamborghini purtroppo c'hai il badge diverso io mi ricordo dove ero l'ultima volta gli interni avevamo il badge in verticale gli esterni in orizzontale e via dicendo colori diversi catenelle diverse e via dicendo ora assolutamente è legittimo avere un obiettivo del genere se fa parte del tuo percorso di carriera non ho la risposta specifica immediata però hai sollevato un punto fondamentale gli office politics cioè aspetta tu dici ho notato che facendo altri colloqui il fatto che sia consulente non interno è visto come un malus diciamo allora anche lì dipende da come te lo giochi al come te lo giochi nel nel colloquio nella preparazione e nella tua strategia cioè mi spiego ovvio se io sono nell'azienda prestigiosa da interno io faccio parte di un meccanismo lavoro in un certo modo sono nelle dinamiche aziendali ho una governance di un certo tipo un network e sono esposto a tante altre cose al di fuori del tecnicismo no? vedo altri progetti vedo altre cose partecipo magari alla parte di gestione finanziaria dei progetti tante cose che tipicamente un esterno chi fa parte della nicchia contingent labor non ha non è esposto a queste tipologie di informazioni il punto è tu hai le tue competenze è il motivo per cui questa azienda sta pagando tanto per te perché tu vedi un numero ma l'azienda vede almeno quel numero per 1.5 e allora tu devi lavorare su quelle tue competenze poi tu dici quanto è importante la politica office politics sono fondamentali quando si parla di office politics spesso se ne parla con una connotazione negativa no? ah gli office politics no ma io ho il mio lavoro e le mie competenze devono parlare con me per me si devono accorgere di quanto valgo e mentre chi si occupa di office politics è chi va in giro a baciare a destra e sinistra allora questo deve sparire dal vostro mindset ripeto qui io parlo a professionisti e persone che vogliono sviluppare un mindset professionale per la carriera gli office politics fanno parte del skill da sviluppare gli office politics sono il la versione lavorativa del saper stare al mondo ok? io devo imparare a muovermi in base al contesto a comunicare a capire cosa succede attorno a me ad adeguarmi ovviamente se quello che sta attorno a me è uno schifo con cui non voglio niente avere a che fare non devo essere lì ma se sono lì vuol dire che sono in un ambiente che ho scelto e di quell'ambiente devo anche capire le dinamiche ora l'office politics in un caso come il tuo io lo trasformerei come focus in network cioè la gente sa che esisti ti posizioni come un puro executor di attività oppure hai la possibilità di metterti in gioco di vedere altro di contribuire di fare un po' di stretching dei ruoli delle attività e tutto secondo me è su quello che devi lavorare cioè tu devi diventare visibile all'azienda cioè all'azienda alle persone che contano in azienda cioè tu devi assicurarti di non essere un badge e una black box con input output ma il più possibile nei limiti dell'essere un esterno partecipare alle dinamiche aziendali in maniera costruttiva e con un focus molto specifico sul sul network però anche una cosa perché tu mi dici voglio essere interno perché quando faccio i colloqui l'essere esterno è valus ok ma tu vuoi entrare per poi uscire o vuoi entrare perché vuoi entrare perché se il tuo obiettivo è uscire allora magari fai prima a lavorare sul sull'ottimizzare il tuo processo di trasferimento da un'altra parte no? quindi capire perché il fatto che tu se io faccio determinate cose perché viene visto come un malus la mia mancanza del badge questo è tutto da vedere caso per caso se invece il tuo obiettivo è entrare per entrare ok allora lì devi lavorare sul network sull'essere conosciuto che non vuol dire saltare io 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 ma vuol dire spingere il più possibile sul tuo contributo all'azienda è esattamente questo cioè infatti tu hai toccato un punto che ho notato anch'io mi sono accorto che tra gli altri responsabili sono abbastanza invisibili ma ti assicuro questo succede anche agli interni cioè agli interni quando ci sono quelli che dico ah ma nessuno mi considera per una promozione per uno spostamento e tutto ma non avete idea di quante volte la gente ha un modo di lavorare che li rende completamente invisibili perché non hanno sviluppato una logica di lavorare per la propria carriera di nuovo venite al webinar perché parleremo poco di questo cioè tu sei la io SPA ok anche da dipendente tu sei un imprenditore devi pubblicizzare un prodotto devi vendere un prodotto che sei tu come professionista come competenze e sta a te dove posizionarlo ovvio che se se io ho una quotidianità che è soltanto stare a fare il mio lavoro e nient'altro va bene però non sto investendo in qualcos'altro quindi vedi chi è visibile vedi come si muovono cerca di fare network capire chi sono gli altri capire come puoi aiutare ora non so nello specifico che tipologia di ruolo stai ricoprendo adesso però il più possibile pensare sempre a quale problema di business risolvete questo anche quando fate i colloqui cioè io non devo andare a presentarmi come Maurizio con questo curriculum queste cose fatte io devo andare a presentarmi come soluzione al problema di business di chi mi sta intervistando in quel momento poi questo è uno dei dei trucchi e dei mindset per il posizionamento nella carriera ok ed è ed è un punto fondamentale infatti tu dici per rispondere alla tua domanda voglio entrare per entrare ma anche per un percorso futuro mettere nel cervello un'esperienza da interno esatto però anche lì ben strutturato tu comunque stai lavorando in Lamborghini anche se hai un badge da esterno ma lo standard a cui tu stai lavorando è standard Lamborghini e allora tu devi essere bravo a vendere questa cosa per bene sì ci vediamo al webinar ricordatevi il 25 marzo saranno due ore in cui parlerò proprio dei passaggi per approfondire la carriera per migliorare la carriera a 360 gradi e poi ovviamente farò anche un'introduzione del nuovo percorso di gruppo che partirà a breve però sì ci vuole esattamente questo tipo di mindset infatti dici seguendo i tuoi video bravo ehi tre like qua ricordate che su youtube dovevo mettere i like ho capito che per quello che vuole essere il mio percorso entrare in una big company diventa fondamentale fare questo step l'ho visto anche in altri colleghi che hanno cambiato esatto proprio quello questa è la progettualità di cui parlavamo prima cioè l'entrare deve essere all'interno la scelta di un tipo di percorso o l'altro deve essere all'interno di un passaggio io tra l'altro in una delle consulenze stavo lavorando qualche settimana fa con una persona che era una situazione simile del in un'azienda prestigiosa esco perché in quest'altra azienda piccola mi danno tot euro in più ok ci sta ma questo vuol dire che in quei pilastri tu stai dicendo il pilastro finanziario è prevalente va bene tra cinque anni quegli euro in più varranno nella tua vita futura più del cinque anni con il meganome nel curriculum può essere pure non c'è ripeto non c'è la risposta giusto o sbagliata l'importante che voi andiate a considerare proprio l'opportunity cost di ogni scelta l'opportunity cost applicato alla carriera è fantastico è fondamentale l'opportunity cost è sempre quando faccio una scelta questo che mi porta devo confrontarlo rispetto a quello che mi avrebbe dato un altro tipo di scelta per cui se mi danno 500 euro in più al mese ok tra cinque anni nel curriculum o che ho lavorato cinque anni nella strafiga in Tesla oppure c'ho 25.000 euro lordi in più secondo me cinque anni in Tesla negli anni di carriera hanno un valore enormemente maggiore ok però di nuovo ognuno c'ha le sue risposte in base alle sue priorità Ask chiede che ci sta ho svariate competenze tecniche e certificazioni alto profilo ok 23 anni con un RAL di 50k vorrei proseguire in all'area triennale online ma ha senso per lo sviluppo professionale Ask Tokyo uno dei punti che capita maggiormente allora a parte che 50k è un'ottima RAL per un 23enne ma complimenti chapeau il punto è questo in Italia c'è molto la logica del vado a prendere la soluzione dallo scaffale ah c'ho questa cosa boom mi iscrivo all'università e cioè una laurea triennale è un percorso fatto per liceali che devono brigiare al mondo del lavoro cosa ti può dare una laurea triennale per carità l'università la laurea per me è fondamentale cioè non quelli non studiare laurea fondamentale per la carriera tutto no doubt ma il punto fondamentale è rispetto alla tua carriera cosa dovrebbe darti fare esami che sono per il 40% proprio deutici rispetto a qualcosa di teorico cioè se tu hai individuato un'area di competenze che vuoi sviluppare per prima cosa assicurati che siano competenze da sviluppare no? cioè dove dove hai la certezza che quello sia il set di competenze da sviluppare per fare quel tipo di salto se tu dici io ho appurato che mi servono quelle competenze perché voglio passare al settore supply chain oppure va bene cerca di capire quali sono i percorsi più formanti per quella cosa specifica che non necessariamente debba essere investire un qualcosa che ti darà il risultato tra tre anni cioè 23 anni vuol dire che hai 3 5 o quello che hai tu in base a quando hai iniziato seniority cioè fra tre anni non è domani eh fra tre anni avrai un titolo ma avrai anche le competenze necessarie per il titolo lo avrai va bene ma o tu dici io devo fare un concorso per cui serve la laurea perché se no non c'è il flag tutto va bene oppure me lo tengono di sottofondo a questo punto se mi serve soltanto il titolo scelgo la laurea più easy così non impatta ma se invece stai cercando competenze esplora per capire se effettivamente è lì che che si trovano o meno tu dici mi occupo di una banca branca dell'informatica in cui credo la laurea non mi dia nulla di tecnico solo il foglio di carta ma è possibile crescere in azienda oltre quella cifra senza e sì allora crescere in azienda e cifra sono due cose diverse eh crescere in azienda è un percorso professionale quello di cui sta parlando tu è un percorso salariale ti servono i soldi impara il tedesco farai molti più soldi che prendendoti il pezzo di carta cioè tu vieni assunto per le competenze non per i titoli ok nessuno ti paga uno stipendio perché c'hai un pezzo di carta o perché hai fatto l'esame di analisi 1 e 2 ti pagano perché back to the point sei capace di risolvere un problema di business quel problema di business vale 100 e quindi a te do 50 questo è scusate ho iper banalizzato la logica delle aziende ok allora piuttosto se ti serve soltanto il flag perché in certi ruoli può essere allora prenditi qualcosa letteralmente di sottofondo ma se determinate competenze e il tuo obiettivo è crescere a livello di RAL vai in un posto dove ti pagano di più ma again i pilastri puoi trasferirti c'hai dei vincoli familiari competenze linguistiche e tutto cioè per la tua carriera imparare una lingua in più probabilmente ti darà molti più sbocchi a livello RAL e professionale che prenderti un foglio di carta dall'università online che nessuno si fila e che ti arriverà tra tre anni piuttosto ti chiudi fai una chiusa presuppongo che tu già parli perfettamente inglese ti trasferisci in un'azione delle DAC di ACH Deutschland Austria Confederazione Elvetica e lì farai un salto di RAL che è molto 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 maggiore di quello che avresti facendo tutti quanti i gradini ripeto nello scenario in cui il pilastro finanziario è maggiore degli altri se tu sei uno di quelli che dice no io devo vivere davanti al mare al sole e ho conosciuto gente così e che sacrifica la carriera non sacrifica la carriera fa una scelta di non sviluppare una carriera perché per loro è più importante vedere il mare e va bene ok ci sta sappi che uno una cosa implica determinati risultati però appunto se il tuo obiettivo è crescere come RAL punta a sì esatto cioè ma guarda se un collega stesse competenze 120k Zurigo a 23 anni sì easy ma a seconda del ruolo delle competenze e tutto cioè ripeto ti puoi spostare in Svizzera lavorando in inglese se poi ci aggiungi il tedesco ci sono persone ci sono delle scuole in Germania non mi chiedete link perché dove praticamente sono tipo college tu vai là ti chiudi esci dopo sei mesi che parli tedesco ci sono quelle per esempio specifiche per i professionisti del settore sanitario informatici medici infermieri e tutto altre dove tu vai là e tu dici ecco piuttosto questi tre mesi l'estate mi chiudi una scuola di quelle mi prendo un A2B1 di tedesco e quello uff che ti dà che ti apre porte no oppure inizia a lavorare in inglese e poi sviluppa altre competenze ma ripeto se parliamo di RAL è più la scelta geografica che la parte competenze perché a un certo punto RAL superiori in Italia probabilmente sono più relative a ruoli manageriali e gestionali che a ruoli tecnici per cui non è la competenza tecnica che ti farà guadagnare 100.000 euro all'anno per avere quello stipendio devi essere un dirigente e il dirigente non fa il tecnico e altri discorsi simili oppure te ne vai in Svizzera e guadagni 150.000 da informatico easily ho visto anche cifre molto molto più alte da esterni e tutto quanto ok per la Svizzera avevo fatto un video su come si si vive a Basilea che tra l'altro è uno dei video più visti e sì ci sono vari passaggi varie determinate cose da fare per muoversi all'estero ma assolutamente quello è il punto perfetto allora ci siamo fatti un'ora e mezza di chiacchierata vi ricordo il 25 marzo c'è il webinar gratuito saranno due ore in cui approfondirò proprio tutti i punti iscrivetevi e poi se volete anche io ho fatto due documenti che ritengo siano molto utili e ve li lascio qui i link sempre per scaricarli il primo è un pdf in cui parlo del come approcciare la carriera quindi gli step i sei passaggi da fare quindi per avere una visione d'insieme e invece l'altro che piace tanto è per chi deve gli prendono proprio le mani e vuole mettere mani al curriculum questo è un in questo pdf spiego proprio su cosa concentrarsi ricordatevi il curriculum dovete toccarlo alla fine di tutta quanta la preparazione tutta quanta la parte di analisi e tutto ma quando siete arrivati alla fase ok adesso tocco gli strumenti ecco in queste 10-15 pagine avvicinerò delle belle dritte su cosa dovete fare attenzione perché ogni tanto quando vedo di curriculum mi metto le mani nei capelli ok grazie a tutti ricordatevi like iscrizione al canale queste cose bellissime e fatemi fatemi sapere perché se vi piace l'idea di fare queste live a ora di pranzo probabilmente posso organizzarle con maggiore regolarità benissimo grazie a tutti ciao e ci rivediamo alla prossima